Musica Ben ritrovati, noi siamo sempre in giro per il mondo e lo sapete, in ogni puntata vi facciamo visitare un paese straordinario ma non è straordinario solo il paese che andiamo a visitare e anche il modo in cui lo facciamo perché grazie alla collaborazione con l'Angolo delle Avventure di Milano impariamo un modo diverso di viaggiare, anzi forse impariamo proprio a viaggiare. Questa settimana visiteremo un paese che insomma non è una meta proprio per tutti o almeno non capita a tutti di andare quasi al Polo Sud. è un paese dove anche solo per quanto riguarda gli animali per vederne tanti e di diverse specie come in questo paese dovremmo visitarne almeno 10. E allora bando alle ciance questa sera vi portiamo in... Ciao! 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 Vi portiamo in Sudafrica e lo facciamo grazie a un gradito ritorno il nostro Giovanni Cambiaghi, bentrovato. Grazie. Lui è coordinatore per avventure nel mondo dei viaggi della linea family e vuol dire che viaggia con tutta la famiglia. Normalmente, capisci Giovanni, per noi viaggiare con tutta la famiglia vuol dire magari andare a Rimini. Tu sei andato in Sudafrica? Sì, esatto. La linea family è quella, la linea dedicata proprio ai viaggi delle famiglie, quindi i genitori, entrambi i genitori, anche solo genitori single, che vengono in viaggio e si uniscono ai gruppi con i figli e quindi si formano questi gruppi, diciamo, genitori e figli. Bene, è un bel modo per insegnare appunto anche ai ragazzi, ai bambini a viaggiare e a scoprire il mondo. Ecco, quando avete fatto questo viaggio in Sudafrica? Allora, questo viaggio in Sudafrica l'abbiamo fatto agosto del 2016, quindi qualche anno fa, ed è un viaggio che consente un primo approccio proprio con l'Africa. Sudafrica lo definisco un paese, questo è un viaggio un pochettino soft, perché consente comunque un approccio con il game drive, quindi la possibilità di vedere gli animali, ma il tutto con una relativa calma e soprattutto si riesce ad avere dei pernotti quasi sempre in hotel, guest house e così via. Quindi, diciamo, un approccio soft rispetto a quelli che possono essere invece altri viaggi, tipo Namibia o Tanzania, che richiedono almeno qualche notte in tenda. Ecco, qui vediamo il gruppo che è composto, appunto, come nella filosofia della linea family, da tanti ragazzi. Esatto, questo qui è un gruppo particolarmente equilibrato, eravamo nove adulti e sette ragazzi, tre teenager intorno ai 14-15 anni e quattro ragazzine intorno ai 10 anni. Bene, diciamo che il Sudafrica, appunto, come ci hai fatto capire, si può affrontare in diversi modi. Questo è un modo soft e speriamo di regalare qualche idea a chi, appunto, si voglia avventurare anche con i propri figli. Che itinerario avete affrontato? Allora, questo è l'itinerario più classico che consente in circa due settimane di vedere gran parte del Sudafrica. Ce ne sono anche altri di durata più lunga o alcuni che coniugano il Sudafrica con i paesi vicini, che possono essere la Namibia o altri. E diciamo che in due settimane ne avete fatta di strada dal momento che il Sudafrica non è un paese proprio piccolo. Esatto, abbiamo fatto circa 3.000 chilometri, diciamo divisi in due settimane. La prima settimana nella parte a nord-est, quindi partendo da Pretoria, andando verso est con il Kruger, dove abbiamo fatto i game drive o safari, che dir si voglia. Poi siamo scesi a sud attraversando lo Svaziland, siamo arrivati sulla costa, abbiamo fatto un volo interno e invece la seconda settimana è da Porta Elisabeth verso la città del Capo, su quella che è chiamata la Garda Route. Bene, Giovanni, come vi siete spostati e che tipo di alloggi avete utilizzato? Allora, per gli spostamenti abbiamo utilizzato due minivan, otto persone ciascuno, e in più ovviamente abbiamo fatto un volo interno da Durban a Porta Elisabeth, che ci ha risparmiato circa 1.000 chilometri di viaggio. Per i pernotti, generalmente si dorme in hotel, guest house, ma ci sono trovate anche alcune cose particolari, molto carine. Ad esempio, una notte abbiamo dormito su questo treno, che adesso è diventato praticamente un albergo, proprio di fronte a una spiaggia. Noi abbiamo preso la carrozza con tutti i letti e abbiamo occupato un'intera carrozza tutta per noi. E la mattina successiva, quando ci siamo svegliati a fare colazione, nella baia di fronte a noi c'erano le balene. Ah, che meraviglia! Che poi vedremo. Parlami di questo treno, quindi io qua vedo dei letti a Castello, voi ovviamente essendo un gruppo grosso avete occupato un'intera carrozza, però si può viaggiare anche singolarmente, giusto? Sì, c'erano anche delle cucette da uno o due posti, però noi, essendo un gruppo anche abbastanza affiatato, abbiamo preso tutta una carrozza intera con questi letti a Castello. Ma il bagno è quello tipico di un treno o l'hanno leggermente reso più comfortable? Appena appena più confortevole, con delle docce avevamo due bagni, uno in testa e uno in fondo alla carrozza. Diciamo, è una soluzione abbastanza spartana, ma che è piaciuta un sacco ai ragazzi. Beh, immagino! Però poi la sera successiva siamo andati in un posto strepitoso, abbiamo dormito in questi cottage, in una riserva naturale che si chiama De Hope, cottage bellissimi dotati di ogni comfort, a partire dalle coperte termoriscaldate, che si possono vedere nella stanza in alto a sinistra. E all'esterno avevamo la possibilità di fare dei barbecue, appunto anche di cenare o fare colazione sui tavoli all'esterno. C'era la necessità delle coperte termoriscaldate? Beh, allora, la stagione, la nostra estate corrisponde all'oro inverno, all'inverno australe. Le temperature erano abbastanza variabili. La sera e la mattina faceva abbastanza freschino, poi di giorno quando usciva il sole le temperature si alzavano. Allora, io ne avrei fatti volentieri a meno, insomma, delle coperte. Non c'era tutta questa necessità. Perché tu sei un maschio brutto, però, insomma, donne e bambini sicuramente, le coperte le avranno apprezzate. È molto carino questo cottage, si trovano tanti di queste ambientazioni così coloniali? Allora, si può trovare di tutto. Ovviamente bisogna cercare quello che offre un buon rapporto qualità-prezzo. E in questo mi sei maestro, un fatto coordinatore. Sì, allora... Hai cercato tutto prima, naturalmente. Sì, sì, il viaggio l'ho preparato almeno due o tre mesi prima e questo consente, innanzitutto, di trovare le strutture migliori che offrono un buon rapporto qualità-prezzo. In questo caso particolare, poi, era la prima volta che ospitava dei gruppi e quindi ci ha fatto un prezzaccio veramente di favore, altrimenti non avremmo potuto dormire in strutture di questo tipo che sono a un livello molto molto alto. Invece le guest house che cosa sono? Le guest house sono degli alberghi tipicamente a conduzione familiare che generalmente offrono il servizio di mezza pensione che puoi trovare generalmente lungo la strada che utilizzi per la maggior parte dei casi per pernotare una notte durante gli spostamenti. Capito, allora, però, noi vogliamo arrivare, insomma, al pezzo forte di questo viaggio che penso che sia il safari. Sì, allora, il pezzo forte... Ma io ho già visto un po' il materiale e devo dire che merita. È il Kruger, però, come tutte le cose, bisogna aspettare un attimo. Bisogna aspettare. Per arrivare al Kruger abbiamo fatto una prima tappa al Blind River Canyon che è uno dei canyon più grossi al mondo che consente una vista spettacolare. Vediamo perché dalle immagini, veramente a perdita d'occhio, veramente incantevole. Esatto, è una tappa di avvicinamento al Kruger. Si visita generalmente questo canyon più altre cose che sono vicine, ma la cosa veramente straordinaria è questa. Questa struttura si è chiamata le tre rondewells, che sarebbero le tre capanne, perché hanno una struttura tipica delle capanne africane. Tieni la mente perché dopo le rivedremo. Sì, va bene. La natura a volte fa cose che il miglior architetto non potrebbe davvero disegnare, o quantomeno le copie al massimo. Esatto. E poi ci si avvicina al Kruger, quindi il secondo e terzo giorno l'abbiamo trascorso nel Kruger per fare quelli che si chiamano safari. In realtà il termine tecnico si chiamano game drive, perché si arriva guidando la propria auto. Si può girare all'interno di questi parchi, tenete presente che il Kruger è grosso più o meno come il Veneto, quindi ha un'estensione davvero enorme. Si può circolare con la propria auto, sia sulle strade asfaltate come in questo caso. Ma il Kruger alla fine che cos'è? Un parco? È un parco, ripeto, con un'estensione molto grande, in cui si può entrare, si può circolare con le auto. Ci sono alcune regole da rispettare. La prima è quella ovviamente di non scendere dalle proprie auto. Ah, possiamo non investire il leone. Bisogna viaggiare a 40-50 km all'ora al massimo, proprio perché bisogna fare attenzione agli animali. E i controlli sono veramente forti. Perdonami, essendo grande come il Veneto, se ti scappa la pipì, come fai? La fai in auto? Ci sono delle zone, cosiddette zone attrezzate, che servono sia per fermarsi, per andare in bagno, e poi ci sono dei veri e propri camp dove si arriva la sera per alloggiare, che sono dotati di ogni comfort, sia per dormire, sia per mangiare. Ci sono dei self-service e così via. Allora, noi il primo giorno abbiamo fatto il self-game drive, ovvero con le nostre auto. Una delle prime scene a cui abbiamo assistito è proprio questa, una leonessa che ha attraversato la strada, ma la cosa più forte, da qui non si vede, è vedere la reazione dell'autista che era sulla macchina di fronte a noi, che era davvero stupito con gli occhi sbarrati. Poi ci sono ovviamente scene come queste, una giraffa, anche questa, che ci attraversa la strada. Tra l'altro le giraffe in questi parchi africani sono davvero grandissime, sono alte 4-5 metri. Niente a che vedere con quelle che siamo abituati a vedere nei parchi qui da noi. Sono davvero maestose, bellissime, davvero. Però la cosa che mi vale più la pena è fare invece un game drive con i ranger. Ok. Si fanno con quelle auto che sono in alto a sinistra, sono auto scoperte. Ce ne sono di diversi tipi, noi abbiamo fatto quello che dura più di tutti, che dura l'intera giornata, partendo dall'alba intorno alle 5 e mezza della mattina. Ovviamente fa molto freddo, infatti vedete in questa foto mio figlio come era bello coperto. Sì, sì, avevamo cappelli, guanti, sciarpe, giubbotti invernali. Però consente di vedere molti più animali, ma soprattutto dei paesaggi davvero particolari, bellissimi. La luce che c'è in Africa è davvero diversa, è davvero particolare, che poi è quella che fa venire la nostalgia di questi luoghi. Il mal d'Africa. Il mal d'Africa, esatto. Quindi hai consumato la macchina fotografica. Sì, ho fatto circa 4-5 mila foto, poi ovviamente ne ho dovute selezionare alcune. Una a cui sono particolarmente affezionata è questa, è un piccolo elefante che abbiamo incrociato subito la mattina. Si può vedere che ha tutta la terra sul fianco, la terra rosso, perché si era appena sollevato dalla terra dove aveva riposato. Che piccolo! Sì, sono davvero bellissimi. Poi ci sono ogni specie di uccelli, adesso qui ne ho... Ecco, i colori di questo uccello, veramente. Un arcobaleno di colori, così, non lo vedi in gabbia, non lo vedi nel documentario, te lo trovi davanti. Credo che lì si capisce veramente l'essenza della vita, di quanto siamo piccoli davanti alla natura. Sì, no, sono davvero straordinari, sono colori particolarissimi. Questa è una Ghiendai a petto lilla, ma ce ne sono alcuni stranissimi. Ce n'è uno che ha il becco arancione soprannominato Banana Fly. Poi ne abbiamo visti altri, ad esempio questo è un coyote. Questa è una Iena che sono riuscito a catturare dopo una scena particolare. Praticamente ce n'era un branco che stava sfamandosi con un ippopotamo che era morto. C'era tutto un branco, sono riuscito a catturare questa Iena che si stava allontanando. Se si riuscisse a zoomare si vedrebbe che anche un po' di sangue... Nel tipico ghigno da Iena ci sono ancora i resti del suo l'autopasto. Ma ecco, fare il giro con i ranger è più bello perché sanno dove portarti o proprio per il fatto che sei aperto? Beh, allora fondamentalmente loro sanno dove andare a vedere gli animali, in particolare i felini che è la vera difficoltà da trovare. Loro comunicano con gli altri i ranger attraverso le radio e quindi quando qualcuno ne ha vista riesce a comunicare le posizioni agli altri. Quindi diciamo che è più facile poter vedere gli animali. In alcuni casi sanno anche esattamente la posizione, ad esempio, dei nidi, degli uccelli e così via. Quindi sicuramente è una cosa da provare. Dopodiché va molto a fortuna, specie per i felini. Quindi può capitare come a noi che siamo stati tutta la giornata con i ranger, ma alla fine siamo riusciti a intravedere giusto un paio di leoni da lontano. Può capitare che uno entra per mezza giornata con la sua macchina e magari trova un branco di leoni. Come è capitato a voi con la leonessa davanti. Esatto, però c'è da dire che il Kruger oltre ad essere grande è molto vario. C'è una ricchezza di acqua nonostante noi fossimo andati nella stagione secca. Comunque ci sono alcuni fiumi che lo attraversano, quindi è possibile vedere dei coccodrilli e soprattutto anche degli ipopotami. Questa foto è straordinaria, ma eri vicino e hai zoomato tantissimissimissimo? Questo era abbastanza vicino a noi, è una pozza vicinissima che ci siamo affiancati con la macchina. Poi c'era la luce perfetta, tutta una serie di condizioni. Sì, devo dire che a questa foto sono particolarmente affezionato. Poi soprattutto, sia con i range sia con la propria macchina, si può lasciare la strada asfaltata e prendere queste strade sterrate che hanno il nome di ring, perché tipicamente sono ad anello, uno entra in questa strada sterrata e poi esce dalla parte opposta e consente di addentrarsi nel bush e si possono fare degli incontri molto particolari. Ad esempio abbiamo un filmato, nel nostro caso, in cui abbiamo visto gli elefanti da vicino. Ah, ok, benissimo. Allora forniamo subito il video degli elefanti. Esatto, qui abbiamo intravisto un elefante che stava attraversando la strada, quindi ci siamo immediatamente fermati. Poi poco dopo, a seguire, è arrivato il suo piccolo. Godiamoci veramente l'andatura ciondolante di questo animale meraviglioso. Poi spostandosi invece ne abbiamo visto un altro molto da vicino che era intento a mangiare, ma la cosa molto particolare è proprio anche sentire i rumori. Qui si sentiva veramente il rumore masticava, strappava le foglie dagli alberi. È una cosa a cui non siamo abituati. Ecco. Poi, vabbè, per proseguire, gli erbivori se ne incontrano tantissimi, tipo questo. Questo, quest'altro bellissimo invece è un kudu, con queste corna davvero spettacolari. Poi dopo ci sono i classici... Ecco, mi sa che il kudu deve correre, eh? Cioè, quando... Sì, tra l'altro... Poveri erbivori, ecco. Tra l'altro, questi è possibile anche mangiarli. Tipicamente uno dei piatti tipici in Africa sono le carni degli erbivori, tra cui questo... Quindi se non lo mangi al leone te lo trovi a cena. Esatto. Sì, l'abbiamo preso, l'abbiamo ordinato più volte la sera. Esatto. Beh, insomma, è un po' come qua mangiare il capriolo. Sì, sì, assolutamente. Sì, sono, diciamo, animali che si trovano ovunque per loro. Poi abbiamo il classico facocero. Ecco, sì. E poi... Chi sa, i bambini impazziti. Pazziti. Esatto, esatto, esatto. Mi viene in mente il cartone animato e infatti insieme a Alfacocero c'è il suo compagno. Fede l'amico. Esatto. Quindi abbiamo fatto l'accoppiata a Pumba e Timon. Sì. Allora, come ho detto, purtroppo per i felini va un pochettino a fortuna. Noi all'interno del Kruger ne abbiamo intravisti alcuni, come è capitato il leone, abbiamo un'intervista dei ghepardi, ma nel programma era previsto anche di andare a visitare un centro di recupero per i felini. Quindi abbiamo fatto tappa una mezzogiornata in questo centro di recupero, in cui ci hanno spiegato le varie attività che fanno. Fondamentalmente loro prendono gli animali in cattività, generalmente sono sottratti ad alcune famiglie che magari li avevano prelevati dal loro ambiente naturale, difficilmente si riescono a rimettere in natura e quindi vengono tenuti in questi centri a volte, prima di reinserirli in natura, a volte per sempre. Ovviamente ne ho selezionato uno che era affidabile proprio perché fosse veramente un centro di recupero in un posto per i turisti e ci ha consentito un'esperienza davvero fantastica. Anche qui abbiamo un filmato dei ghepardi. Poveri ghepardi, cioè veramente pensare che sono in un centro così di recupero vuol dire che sono stati in qualche modo comunque maltrattati. Sì, più che altro erano stati prelevati da piccoli, tenuti in casa o in piccole strutture e quindi non era più possibile a rimetterli in natura. Tra l'altro in questo caso è stato possibile, rispettando alcune regole, entrare all'interno del recinto. Quindi questa ripresa io l'ho fatta a circa due metri dal ghepardo. Convinto, tu sei entrato su quello e hai detto io entro, tanto ormai... Avevo anche quasi la tentazione di toccarlo. In realtà bisogna rispettare alcune regole. La prima fra tutte è quella che non bisogna abbassarsi. Tra l'altro i ragazzi sotto il metro e dieci non potevano entrare perché sarebbero potuti essere scambiati per delle prede. Gli adulti non si devono abbassare e non si deve mai dare le spalle al ghepardo. Certo, mai dare le spalle al felino. Così avete terminato il vostro giro nel Kruger? Perché mi parlavi di uno sconfinamento. Sì, allora dopo i due giorni al Kruger abbiamo fatto uno spostamento verso sud e sì, abbiamo sconfinato perché siamo entrati in un altro paese che è lo Svaziland. In realtà è un piccolo paese, fate conto di vedere un po' quello che può essere per noi San Marino. Ci siamo fermati una giornata e mezzo e qui abbiamo fatto tre visite, la prima delle quali è a questo market davvero tipico. Ci sono esposti insomma tradizionali souvenir ma anche delle cose che vengono acquistate dalla popolazione locale. Ad esempio queste sono delle borse fatte con dei filari in plastica, intrecciate a mano. Tutto sempre molto colorato. Esatto, invece queste sono delle ciabatte fatte con le gomme dei copertoni delle auto. Quindi hanno riciclato. Viva l'economia circolare, il riciclo. Qui abbiamo speso tutta la mattina, abbiamo fatto alcuni acquisti, ad esempio questa foto sono particolarmente legato perché da questa ragazza, questa signora abbiamo comprato parte dei nostri souvenir. Quindi abbiamo dato anche una mano alla popolazione locale. Certo, quindi ci sta. Ecco, per chi avesse magari dei dubbi in questi viaggi avventurosi, care signore, lasciano anche il giro di shopping. La mezza giornata di shopping il Giovanni ve la lascia. Allora facciamo così, ci fermiamo sullo shopping, andiamo in pubblicità e poi riprendiamo con la seconda parte del nostro viaggio in Sudafrica. Bentornati, siamo sempre in giro per il mondo, più precisamente siamo in Sudafrica. Questo viaggio lo stiamo facendo grazie a Giovanni Cambiaghi, di avventure nel mondo angolo delle avventure Milano, lui coordinatore per la linea Family. Quindi viaggia sempre con tutta la famiglia al seguito e fa far loro delle avventure straordinarie. C'eravamo lasciati in mezzo a un safari, ma nel giro di shopping, dove avete comprato i souvenir, ovviamente tutte cose fatte a mano di artigianato locale. Sì, eravamo nello Svaziland, che è un piccolo stato all'interno del Sudafrica stesso. Tra l'altro è uno dei paesi più poveri al mondo, qui il reddito pro capita è decisamente più basso rispetto al Sudafrica e quindi ne abbiamo anche, insomma, approfittato per aiutare un po' l'economia, la popolazione locale. Dopodiché abbiamo fatto un'altra specie di safari, in realtà più che per vedere gli animali, per vedere il paesaggio, che qui è veramente molto più spoglio. Brullo, sì. Esatto, però che consente comunque di avere delle immagini della natura davvero bellissime e questo parco, essendo popolato esclusivamente da erbivori, ti dà anche la possibilità di scendere dall'auto e camminare liberamente. Sgranchersi un po' le gambe. Esatto, sì. E poi, l'abbiamo fatto nel tardo pomeriggio, in serata, siamo saliti in cima a una collina per ammirare il tramonto. La foto del tramonto non era bellissima, invece questa del gruppo è molto particolare. Quindi ho messo la foto del gruppo. Vedo anche qualche temerario con le braghe corte. Sì, sì. Cioè, veramente c'è un po' di tutto. Chi è coperto, chi... Quindi il clima è abbastanza mite durante il giorno. Si può... Sì, sì. Si sta bene. Di giorno si raggiungono tranquillamente i 20, 22, 23, 23 gradi. C'è molta escursione termica, mentre la mattina e la sera tende a rinfrescare, e soprattutto la mattina, se uno si sveglia presto, all'alba, come è stato il caso dei game drive, fa abbastanza freddino, soprattutto se sei su una macchina scoperta. Quindi il coordinatore non è mai nelle foto? No, io preferisco fotografare gli altri. Abbiamo scoperto anche questo. Bene. Poi che cosa avete fatto dopo quest'altro parco? Allora, la mattina successiva invece siamo andati a visitare questo villaggio, una ricostruzione di un villaggio della popolazione Svazi. Allora, diciamo che era una cosa abbastanza turistica, non era sicuramente un villaggio abitato, originale, così via. Però è stato sufficiente per darci alcune informazioni attraverso la guida locale su come fosse la vita all'interno di un villaggio. In particolare è rimasto impresso ai ragazzi il fatto che la capanna, quella in basso a destra, che è tutta circondata da delle piante, fosse utilizzata come una sorta di farmacia, perché dalle piante si ricavavano tutto quanto fosse necessario per curare gli ammalati. Certo, i medicamenti. Esatto. Dopodiché abbiamo assistito anche a una danza tipica e abbiamo filmato. Praticamente questa è di fatto la riproduzione di una danza tipica che gli uomini del villaggio facevano per conquistare le ragazze del villaggio. per dimostrarsi atletici, in effetti lo sono, sono particolarmente atletici. E quindi, diciamo, era... Beh, insomma, fisicacci, eh? Eh, sì, sì, abbastanza. Sì, sì, sì. Infatti... Tra l'altro qui la cosa particolare, come si può intravedere sulla destra, c'erano tantissime scolaresche ad assistere a questo spettacolo. E terminato lo spettacolo ci siamo fermati con loro a scambiare quattro chiacchiere, a scherzare, a far vedere le foto e a fotografarli a loro volta. Un'altra esperienza, anche se non proprio originale, dentro una ricostruzione, però, insomma, non è da tutti. Sì. Vivere un'esperienza del genere. Comunque consente, soprattutto ai ragazzi, di avere alcune informazioni, alcune nozioni aggiuntive, che per me è il valore aggiunto di questi viaggi. Certo. Perché imparano il fatto che ci fossero diverse popolazioni, la storia, le modalità, gli usi e i costumi, e così via. Quindi ritornano dal viaggio che sono arricchiti sia nell'animo che... Che nella cultura, proprio. Nella cultura, esatto. Dopodiché abbiamo lasciato la Svaziland e ci siamo spostati più a sud, abbiamo attraversato altri parchi, ma soprattutto siamo arrivati a sud, lungo la costa, su un estuario di un fiume, e abbiamo preso queste imbarcazioni per fare una mini crociera nella durata di tre ore lungo il fiume, dove è possibile vedere alcuni coccodrilli, come in questo caso, li abbiamo visti davvero da vicini. Praticamente la barca si affiancava. E stava proprio con la bocca aperta. Sì, sì, anche se ovviamente c'era il cartello di non dare da mangiare ai coccodrilli. Soprattutto i bambini, ecco. Sì, ce ne siamo guardati bene. Però questa zona è famosa soprattutto per gli ippopotami. C'è un'altissima concentrazione di ippopotami, che possono essere visti sia sulla terraferma, mentre stanno dormendo, ma soprattutto in acqua. Per esempio questa è una famigliola di ippopotami. E ce ne erano veramente, veramente tanti. Credo che sia una delle zone al mondo in cui c'è una concentrazione più alta di ippopotami. Tutto questo nella vostra gita di circa tre ore sul fiume, no? Quindi un'altra avventura meravigliosa con i coccodrilli, con gli ippopotami. Sì, tra l'altro la cosa curiosa è che in questa cittadina che si chiama Saint Lucia ci sono i cartelli di stare attenti all'attraversamento di ippopotami. E mi hanno detto che è frequente vederli attraversare la strada in città. Ma pensate, allora che escursioni avete fatto sulla Garden Route? Allora, con questa zona qui di Santa Lucia si conclude la prima parte e poi abbiamo fatto il volo interno per andare sulla Garden Route. Non abbiamo documenti del volo interno, ovviamente. È un po' come tutti i voli. È un volo normalissimo, ha una durata di circa un'oretta e mezza, fatta la mattina. Quindi subito, a partire dal primo pomeriggio, siamo andati nella zona della Garden Route in cui ci sono anche qui diversi parchi, però non ci sono animali, ma sono più che altro lungo la costa e quindi sono caratterizzati dalla presenza dell'oceano. Guarda come cambia completamente lo scenario, non solo per la presenza dell'oceano ma anche la vegetazione, il verde, le abitazioni è tutto molto diverso. Esatto, questa era una foresta che praticamente arrivava direttamente sull'oceano. Qui abbiamo dormito in quelle casine che si vedono in basso a sinistra, anche questi erano dei cottage di legno con vista a oceano. Quindi praticamente dalle nostre casette avevamo la vista di fronte delle onde che sbattevano contro gli scogli e la mattina ci siamo svegliati proprio con il rumore. Abbiamo fatto una colazione all'americana su queste terrazze con la vista dell'oceano. Questa zona però è famosa soprattutto per la presenza di questi ponti sospesi, sono tutta una serie di ponti sopra l'oceano che è possibile attraversare con trecchi di un chilometro e mezzo circa. Quindi la costa è unita, le insenature sono unite da questi ponti. Sì, esatto. Come ad esempio in questo caso, si percorre, si fa questo piccolo trekking lungo la costa fino ad arrivare ad un punto panoramico. Questa zona è ricchissima. In totale sicurezza? Sì, no, assolutamente. Sì, sì, questi sono dei ponti robusti, tecnologicamente avanzati, insomma. Tu che sei ingegnere e controllato. Vabbè, quindi in assoluta sicurezza. Questo è il trekking più classico che fanno praticamente tutti, ma ce ne sono anche un'altra serie di trekking che è possibile fare lungo la costa. In particolare c'è uno molto famoso che si chiama Otter Rail, e Otter è il nome di queste marmotte che è possibile trovare lungo il percorso. Noi per motivi di tempo ne abbiamo fatto uno più corto della durata di tre chilometri attraverso la foresta fino ad arrivare sull'oceano. Però le marmotte le avete viste. Assolutamente, si sono simpaticissime. Ne ho diverse di queste foto. Sicuramente questa è una di quelle più curiose, ma ce n'è una in cui la marmotta praticamente è a pancio all'aria che voleva che la grattassimo. Ah sì, quindi sono anche molto amichevoli. Sì, sì, assolutamente, sì. Che meraviglia. Questo qua è sempre trekking? Sì, sì, più che altro è una camminata lungo l'oceano, specie se si fa nella versione più corta. C'è una versione di 6 o 7 chilometri invece in cui è un pochettino più impegnativa perché c'è da scalare alcuni collinei. Poi siete rientrati al cottage sul mare o avete cambiato? Sì, sì, diciamo, noi qui si siamo fermati praticamente una giornata, poi siamo dovuti ripartire. Diciamo che è un viaggio abbastanza serrato perché in 15 giorni si fanno 15 escursioni, io le chiamo esperienze diverse. Infatti ci siamo poi spostati in un posto che è bellissimo, che mi è rimasto assolutamente nel cuore, che è questa riserva di De Hope. Tra l'altro la cosa curiosa è che se uno guarda i manuali, i libri di viaggio, sono riportati solo pochissime informazioni su questa riserva perché è raggiungibile solo attraverso una strada sterrata di un paio d'ore. Diciamo, non è niente di particolare, però è fuori dai circuiti più turistici. Ma questa qui è bellissima sia perché per raggiungerla attraverso queste strade sterrate si attraversano questi campi di colza assolutamente gialli, quindi si è tutti circondati dal giallo, ma poi soprattutto bisogna attraversare un fiume con questa chiatta. Cos'è di particolare? Che praticamente bisogna tirare il cavo che si vede sulla destra a mano, quindi noi abbiamo caricato i nostri due minivan sulla chiatta e poi abbiamo messo i ragazzi a spingere la chiatta dall'altra parte. Una chiatta un po' rudimentale, ma insomma sicuramente efficace. Assolutamente sì, soprattutto perché poi si arriva in questo punto, si chiama Coppin Island, in cui ci sono le dune di sabbia che arrivano direttamente sull'oceano. Allora qui la giornata ahimè non era felicissima, era un po' nuvoloso, ma la cosa particolare che c'è in questo posto è che si possono ammirare le balene che arrivano nella stagione invernale, arrivano dal polo sud direttamente sulla costa per accoppiarsi. Quindi anche noi da queste dune abbiamo visto le balene proprio di fronte a noi sull'oceano. Però insomma non era sufficiente e quindi ho organizzato anche un'escursione in barca per andare a vedere le balene. Ah ok. Allora fortunatamente... Infatti dicevo e le balene non le vediamo? Certo che le vediamo. Fortunatamente il meteo ci ha anche aiutato, quindi abbiamo trovato una giornata col mare assolutamente calmo. Siamo usciti la mattina in barca per anche qui un'escursione di circa tre ore con dei catamarani e dopo circa un'oretta siamo arrivati a vedere le balene. No vabbè, straordinario! Praticamente eravamo circondati da tre balene che erano sul lato della barca e poi a un certo punto hanno anche attraversato, sono passati letteralmente sotto la nostra barca. Sotto la barca, non è pericoloso o no? Eh no, non è assolutamente pericoloso anche se insomma la grandezza di questi animali insomma qualche dubbio lo lascia. Te lo fa venire. Però devo dire che eravamo tutti eccitatissimi per le balene. Tra l'altro dovremmo avere anche qui un filmato. Un filmato. Questa è una balena circa 4-5 metri di lunghezza, quindi una misura anche abbastanza grande. Ecco sì, adesso veramente dal filmato... Adesso poi quando uscirà c'è il classico spruzzo che si intravede insomma. Dal filmato voglio dire si capisce la grandezza, la maestosità di questi animali che si accoppiano proprio lì in Sudafrica. Davanti a questa spiaggia. Esatto, in questa zona proprio per riprodursi. Tra l'altro c'è anche l'alternativa per chi non volesse fare l'escursione con le balene di fare invece un bagno con gli squali. Sempre nella stessa zona è possibile uscire in barca e si viene calati con una gabbia di acciaio circa per metà, fino a questa altezza qua nell'acqua, e vengono richiamati gli squali anche questi di lunghezza di circa 3-3 metri che girano intorno alla gabbia e si può vivere un'esperienza... Voi avete optato per una cosa più pacifica. Sì sì, noi abbiamo optato tutti per la barca, però c'è un gruppo parallelo al nostro che invece alcuni hanno scelto gli squali. Scusami ma e le otarie? Avete visto anche le otarie? Allora le otarie qui le abbiamo intraviste quando siamo usciti in barca, c'è un posto particolare che è lungo il golfo di Cape Town in cui è possibile vederle sul molo, noi per motivi di tempo le abbiamo dovute saltare, però insomma ti faccio una confessione, le ho viste quest'estate in Namibia, magari ne parleremo un'altra volta. Mi hai già dato il gancio per un'altra puntata, va bene, però quello che vorrei sottolineare e far notare a casa è veramente, è vero che avete fatto tanti chilometri, ma in un solo viaggio quante specie naturali avete visto a livello di flora, di fauna? Veramente come dicevo prima ci valgono dieci viaggi per vedere balene, leoni, giraffe, i popotami, insomma... Sì sì, ma assolutamente non è un viaggio, sono diversi viaggi all'interno dello stesso viaggio, sia per gli animali ma anche per altre cose che si possono vedere, che possono essere la città come nel caso di Cape Town che abbiamo lasciato alla fine, che poi vedremo, escursioni in barca e così via. Diciamo che il segreto di questi viaggi è il fatto che abbiamo un bagaglio di informazioni tale che ci consente di ottimizzare al massimo gli itinerari, i tempi e le visite. Tra l'altro viaggiando in gruppo c'è anche la possibilità di ottenere sconti significativi per le escursioni. Certo. Tra l'altro il Sudafrica non è un paese particolarmente caro, diciamo con una media di 50 euro al giorno si può mangiare, dormire e fare qualche escursione. Tenete conto che in molti casi l'escursione è quella che occupa gran parte del costo di alcune giornate. Quindi consente, ripeto, è un ottimo mix che consente di, con un rapporto qualità prezzo, che consente di fare tante cose. Insomma, non ti devi svenare per fare un viaggio in Sudafrica, cioè uno potrebbe pensare molto di più, invece è gestibile, facendo le scelte giuste è gestibile, soprattutto viaggiando in gruppo, questa è veramente l'arma vincente. È il segreto. Hai ancora qualche chicca per noi, caro? Abbiamo qualche chicca. Siamo passati poi dalle grandissime balene ai piccolissimi pinguini. Anche qui c'è una zona lunga la costa in cui i pinguini vengono a riprodursi. C'è una collina proprio di fronte al mare in cui sono scavate queste buche, in cui i pinguini vengono a depositare le uove e a fare crescere i cuccioli. Ecco, non me ne vogliano gli altri pinguini, ma i pinguini africani sono veramente bellissimi. Bellissimi. Sono bellissimi e simpaticissimi, quando uno li vede camminare con quell'andatura davvero buffa. Fammi rivedere i pinguini, ti prego, guarda. Allora, questa ad esempio è una famigliola, ci sono l'adulto e i due cuccioli, tra virgolette, che sono quelli con il pelo leggermente più grigio. Allora, cuccioli, tra virgolette, perché in realtà i piccoli dei pinguini raggiungono spesso, in una certa fase della loro vita, una dimensione che è maggiore di quella degli adulti. Questo perché i piccoli rimangono sulla terraferma in attesa che i genitori vadano a caccia del cibo e portino loro il cibo. Quindi i genitori tendono a consumare le energie e quindi a dimagrire, mentre invece i cuccioli in questa fase della vita tendono ad accumulare i grassi e raggiungono... Rimangono belli cicciottelli. Belli cicciottelli, come questo ad esempio. Dolcissimi, che meraviglia. Ti sei proprio sbizzarrito a far foto. Ricordiamo che poi lui fotografa con una normalissima macchina fotografica, niente di estremamente elaborato. Per questo viaggio avevo acquistato una compatta, ma che ha uno zoom particolarmente potente, perché ovviamente gli animali spesso bisogna fotografarli da lontano e quindi avevo uno zoom ottico particolarmente potente, però niente di particolarmente costoso. Bene, dopo la foto dei pinguini siete finalmente giunti anche un po' fra la civiltà, avete visto anche qualche persona in questo viaggio. Esatto, gli ultimi due giorni di viaggio si fanno a Cape Town. Ecco, perché ricordiamo che in Sudafrica è fatto anche di metropoli fantastiche e assolutamente moderne. Allora sì, nel nostro viaggio si incontra Johannesburg all'inizio, in cui tra l'altro è possibile fare un'escursione particolare che è visitare la township di Soweto. E poi invece alla fine c'è Cape Town, dove si possono fare due o tre escursioni. La prima di queste è la Table Mountain, che è quella montagna che c'è piatta, che c'è alle spalle della città. E possiamo capire perché si chiama così, no? Table Mountain. Esatto, che tra l'altro è una delle sette meraviglie naturali del mondo. Qua si può salire in due modi, o con un trekking della durata di un'oretta e mezza circa, oppure con la più comoda funivia, come in questo caso. Tra l'altro molto particolare perché intanto che sale ruota su se stesso e quindi si ha un panorama a 360 gradi. e dalla cima della montagna c'è questa vista sul resto della città. Tra l'altro quella che invece si vede in mezzo al golfo di Cape Town è Robin Island. Robin Island è particolarmente famosa perché è stata la prigione dove è stato tenuto Nelson Mandela. Certo, perché il Sudafrica alla fine è anche questo, Apartheid, Nelson Mandela, quindi una parte importante della storia moderna. Esatto, esatto. Uno dei motivi per cui avevo anche scelto il Sudafrica era proprio per la storia di Nelson Mandela e tutto quello che rimane legato al discorso dell'Apartheid. Ad esempio abbiamo fatto una scelta tra le varie escursioni che è possibile fare. Io ho portato i ragazzi in un museo che si chiama District 6, che è questo museo. Adesso qui non si vede molto, ma quello che è importante è la storia di questo posto. District 6 era un quartiere all'interno di Cape Town che era prevalentemente abitato dai neri. Un ghetto, praticamente. In realtà stiamo parlando di diversi anni fa, anni 60. La cosa caratteristica è che da un certo punto in avanti il regime bianco ha deciso che in quel quartiere dovevano andare via i neri perché avrebbero dovuto fare posto ai bianchi e quindi ha dato pochissimo tempo agli abitanti per sgombrare questa zona. Tra l'altro a rappresentare questo fenomeno ci sono due cose che si vedono qui a sinistra. In alto ci sono la lista di tutti i nomi delle vie che componevano questo quartiere che poi è stato distrutto e poi c'è una valigia rossa in basso che invece rappresenta quello che poi potevano portare via gli abitanti del ghetto. Praticamente potevano andarsi soltanto con un paio di valigie. Sì, molti di loro in realtà si sono spostati all'esterno della città in quello che è la cosiddetta township che poi erano i ghetti in cui abitavano quasi esclusivamente i neri. Ghetti che però il governo sta cercando di migliorare attraverso un processo di trasformazione delle baracche di lamiera con delle abitazioni in muratura, quindi con una certa dignità. È ovvio che sono tantissime, quindi non è pensabile in pochi anni riuscire a trasformare tutto e togliere tutta questa popolazione dalla proprietà. Perlomeno hanno iniziato. Sì, era iniziato un processo proprio con Mandela. Ripeto, qui ci ha tenuto praticamente a portare i ragazzi proprio per farli avvicinare a quello che è il discorso dell'apartheid. Poi bene, altre cose che poi si vedono a Cape Town, vicino Cape Town, c'è il capo di Buona Speranza. Questa è la foto più classica nel punto, in teoria, più a sud del continente africano. In realtà ti svelo un piccolo segreto, non è questo il punto più a sud, ma ce n'è un altro. Ma qua veniva la foto bella. Esatto, esatto. C'è un altro più a sud. Poco più vicino. E un'altra particolare è questo quartiere Bocap, che è un quartiere con tutte queste case colorate. E poi soprattutto la domenica mattina, l'ultimo giorno di viaggio, abbiamo un po' girato per la città, c'erano i negozi chiusi e tutte le strade erano invase da questi ragazzi che facevano questi spettacoli, questi balletti tipici, oppure c'erano delle band che suonavano. E questo ha fatto un po' venire in mente quello che è il soprannome del Sudafrica, che è il paese arcobaleno, con tutti questi colori. Eh sì, questi colori, ma i tanti colori li abbiamo visti anche, insomma, tramite i tuoi occhi. Siamo arrivati praticamente alla fine di questo viaggio, no? Hai ripetuto due volte che ci hai tenuto tanto a portare i ragazzi a vedere Nelson Mandela e quello che ha significato. Ma chiedo a te, per te, cosa ha significato? Che cosa ti ha lasciato? Beh, allora, per me Mandela è uno degli eroi della fine del secolo scorso, inizi di questo secolo. Quindi io ci tenevo particolarmente a vederlo, insomma, incontrare e stare nel suo paese. Beh, ho imparato tante cose, insomma, il discorso delle tribù, anche la lotta tra le varie tribù. Tra l'altro questi viaggi sono anche l'occasione per informarsi di più, leggere dei libri e così via. Quindi è rimasta tutta la storia, tra l'altro anche i film bellissimi come Invictus. Allora, se volete fare un viaggio insieme al nostro Giovanni, avete visto, tornerete sicuramente più ricchi, ricchi anche di cultura. Come fanno i nostri telespettatori a mettersi in contatto con voi? Sì, allora, l'angolo dell'avventura è attivo sui social. Abbiamo sia un sito internet, che è un gruppo Facebook e un account Instagram. Li potete trovare qui, veniteci a cercare. Ci sono tante occasioni per incontrarci, organizziamo escursioni, visite, aperitivi anche a Milano città. Bene, quindi se volete incontrare Giovanni e tutti gli altri amici così dovete fare, io ti ringrazio tanto. e ti voglio dedicare questa frase. Vi fu sempre nel mondo assai più di quanto gli uomini potessero vedere quando andavano lenti. Figuriamoci se lo potranno vedere andando veloci. Grazie. E così vogliamo chiudere questa puntata e darvi appuntamento al prossimo viaggio in giro per il mondo.